Ah regà, buongiorno e sto nel Minecraft ancora una volta a giocare con voi Allora, a parte che c'è pochissima gente oggi e io devo anche andare via perché sto programmando un sacco di video di pesca sul canale di pesca che voi non avete proprio idea Stasera sarò in live e se riesco un'oretta col Minecraft e poi boom con la family quest, la nuova serie online live con tra virgolette la mia famiglia, i miei familiari di mod, pacchetto moddato Per cui un sacco di cose oggi ho pochissimo tempo a disposizione, ma sono entrato in Minecraft per dirvi tre cose La prima è stata aggiunta, finalmente, l'attesa, Legendary Crate, eccola qua, dove la chiave non è acquistabile da nessuna parte ma le chiavi sono trovabili nelle Epic Oh mio Dio, per cui, sì, sì, le Epic sono da shoppare, è vero, però ricordate sempre che shoppandole, ma in combat, date una mano a noi creatori Per cui non è uno shopping, oh mio Dio, shoppone di merda, no, è come sostenere un server per autopagarsi, per eccetera eccetera Ragazzi, oggi ho un po' di cose da regalarvi, per cui scriviamo in chat, venite allo spawn e give, cose fighe La seconda cosa, ragazzi, è che appunto era in live, ve l'ho già detto La terza cosa è, potete loggare, per chi ancora non sta giocando al programma in combat, nel mio server, i bizantini, i bigantium Perché si è liberato un sacco di posto, siccome c'è tanta gente che non sa giocare al faction, vengono griffati, piangono, se ne vanno Meglio per noi, per voi, si è liberato un sacco di posto all'interno del mio server Per cui, entrino signori, entrino, ecco, un po' di genti che vuole un po' di robi Allora, io devo mangiare prima di tutto, e poi inizio a liberarmi l'inventario e droppare un po' di roba Allora, allora, ecco qua, vi droppo dei meloni, eccoli, poi vi droppo delle carni marce, eccole Poi vi droppo delle corazze, io ce l'ho, ah, voglio, ce l'ho, delle corazze, che io non ci ho posto per quello Vi droppo un'altra corazza di diamante, bambete Poi vi droppo, vi droppo, vi droppo, del ferro, così a random, del ferro Bam 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 bam, poi vi droppo dell'oro Bam 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 bam, riesco ad andare avanti a droppare, yes Mi sento un po' impedito oggi Sto droppando un sacco di roba, ma a breve, ragazzi, aprirò Cinque casse epiche e una leggendaria Leggendaria, oh mio dio Allora, vediamo un po' che posso droppare ancora Questa pala che non mi serve, questa spada che non mi serve Il letto che non mi serve Questi libri che non mi servono Poi posso droppare, basta Le canne da zucchero che al momento non mi servono Tenete qua, spero siate molto contentoli E ora, e ora, via i fiori Si va ad aprire le casse, signori Si va ad aprire le casse Le cinque epic crate Che trovate sul sito dello shop Link in descrizione E apriamo subito la prima Subito la prima Subito la prima Minecombat.parkercraft.it È il sito per informazioni sulle crate Subito una melapowa Delle enderpearl Dobbiamo un 15 Un'altra melapowa E stivali di diamante Però sono gratifignati Ossia Hanno quella cosa di figa Ora, se abbiamo genti dentro A rompere le scatole Non c'è problema Perché quando apriamo la cassa POM Volano via tutti Ecco, vedete che volano Fantastico Ah, ok Volate via Allora, andiamo a aprire La prima che troviamo Una cosa così La seconda che troviamo Una cosa così Però protezione 3 Fantastico Tutta roba che give Bottiglie Ambaradasche Della TNT Et voilà Apriamo la terza La ter... Permesso La terza epic Oh, me l'ha aperta Ok Fantastico Vedete cambiamo anche il idioma Troviamo delle enderpearl Troviamo Uh, due tokens Grande nuke Troviamo un altro token Grande nuke E altra TNT Andiamo a griffare il mondo poi Vai Altre due Create brain strike Ne apriamo solo una Perché è l'altra Vi faccio vedere cosa voglio fare Abbiamo spazio Yes Un piccone Con fortuna No Peccato Dell'ossidiana Ben qui 12 Ah Oh, 50.000 monete Fantastico Ah Oh, tre tokens Tre tokens Vi ricordo che i tokens Sono la nuova moneta Che abbiamo introdotto Che servirà in futuro Per cui Iniziate a farne uso Allora, vente qua che droppo Vi droppo le enderperle Che sono delle bastardate Per entrare in appartamenti Vi droppo Dell'ossidiana Vi droppo Dei fiori Eccoli qua Vi droppo Vi droppo un altro fiore Eccolo qua Poi vi droppo Il piccone Con efficienza No, questo lo tengo Io vi droppo La protezione 3 Venite qui Corri, 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 corri Vi droppo questa Ora vi droppo Gli stivali Che non mi servono Bambete Ora vi droppo Oh, questo qua si sta vestendo Piano piano Ora vi droppo I pesci Cinque pesci Eccoli qua E aspettate Droppo una chiave epic Forza Tutti dietro Oh, ma che droppo la leggendaria Corri, corri, corri Gira, gira, gira Adesso io la lancio Guai a chi la prende Droppata Chi l'ha presa l'ha presa Chi l'ha presa l'ha presa Vediamo chi l'ha presa Chi apre l'ha presa Chi l'ha presa apre Chi apre l'ha presa E chi l'ha presa apre Vi ricordiamo che all'interno Dell'epic crate Si possono trovare Le legendary crate Chi l'ha presa Oh, apriscete Apriscete Si sta vinghiando Eccolo lì L'ha vinta Le tigri bianche Max Mamma che nome Voglio Mere d'oro Forza Poi Oh, tre tokens Attenzione Saltella L'elmo di diamante E l'ultimo Ha trovato Altre mele d'oro Fantastico Ragazzi Sto per aprire la legendary Vai Sto per aprire una legendary Oh mio dio Non tiriamo le mani Non tiriamo la cava troppo Oh mio dio Ringraziamo Park Craft Tutto la staff Assieme a Vinci E Luigi Eccetera eccetera Perché hanno aggiunto In tempo record La leggenda di crate Quella più attesa Dagli italiani Vabbè Quella è la scavolini Vado eh Vado eh Vado Vado né È la mia prima cassa Che apro Oh questo è un casino E le c... Madonna mia raga Ho paura Bampete Corazza di diamante Qual è? Oh mio dio Comunque si trovano cose super fighe Bambete Stivali di diamante Protezione 3 Bambete Protezione 3 In distruttibilità 2 E... Bambete Protezione 4 In distruttibilità 3 Cioè raga Cioè c'è c'è Ho trovato solo stivali Mamma mia Però si trovano cose Molto più fighe Perché si trovano le cose Dei pacchetti VIP Per cui pensate un po' Pensate un po' Pensate un po' Oltre che trovare soldi Token Broken Come li chiamo io Eccetera eccetera Droppo questi 3 Ambarattacchi No vabbè Facciamo che droppiamo anche Questa qua Ma c'è me ne futta a me E droppiamo pure questa qua Droppiamo tutto Però le droppiamo Chi non è vestito Tipo 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 Te Prendila Prendila Dai che ce l'hai Dai che ce l'hai L'ha presa Dai a quelli non vestiti Voglio droppare A quelli non vestiti Vediamo se riesco a dropparli A quelli non vestiti Tu tu che sei nudo Tu che sei nudo Tu che sei nudo Tu che sei nudo Prendila 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 Ok ok A te a te a te Prendi 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 Dai non datele a quelli Già vestiti di diamanti Orca luggia Eh A te a te a te Prendi 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 Dai che pezzi di cacca che siete To 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 E li hanno fottuto E li hanno fottuto Bene Siamo giunti alla fine Anche di questo video Se riesco Ci vediamo un'oretta In live questa noce E poi in live Con il pacchetto Della brocce Un bacione Un abbraccio Da Luke e tutto Ciao Aspettate Salutate anche voi in chat Ciao tubo Hello man